con la mano noi stiamo fare telepathia challenge noi siamo tedeschi e oggi fare noi esperimenta esperimenta pazza e altro dovrà leggere nella mente gli ingredienti non cambieranno saranno sempre quelli che scegliamo noi però cambieranno soltanto i punti alla fine vincerà chi avrà più punti ovviamente no io non voglio il vincitore senza punti senza punti si chiudete le occhie ok chiudete le occhie ok chiudiamo aprite le occhie oh non dite niente allora chi sceglie per primo dai facciamo scegliere Nikita il canale suo ok allora prova a leggere pensieri Nikita quale hai scelto aspetta devo scegliere bene io so questo secondo me hai scelto quello bianco giusto? sbagliato dannazione ha 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 ho scelto quella trasparente ok adesso versatelo versate allora tu bianco e tu trasparente ognuno ha suo ah io l'ho no wow troppo bella quella bianca quella trasparente vuol dire sembra come stile devi scendere mescolare aprite le occhi questa volta saremo con i numeri perché non abbiamo il calore uguale questo ok che numero ha scelto? ha scelto giro che leggi il numero dia per te ai 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 se no se non lo pensi lui non riesce a leggerti nel pensiero aspetta scanner ok vai due dai ma come hai fatto? come hai fatto? è il mio scanner va bene così wow sembra un luogo dovete mischiare mischiate eh non si vede molto però sinceramente penso che quello mio dio quello di Nikita verrà meglio secondo me cioè più meglio meglio cioè il mio sembra praticamente una specie di purè di banana purè purè di banana sì bene quello di Nikita è bellissimo per ora sta vincendo Nikita chiudegli gli occhi chiudi io adesso sono quello che dice qualcosa io posso già aprire possiamo aprire? sì sì apri questa questo questo cosa ha scelto Nikita? leggi l'insiere sicuramente allora io dico liquido per le lenti sbagliato 3-0 guarda che bello è bruttissimo mi sta prendendo forma ma il tuo ti sta uscendo è bellissimo eh però ci si appiccica tutto è solo colla questo per fortuna che abbiamo i guanti wow è fighissimo infatti sembra una medusa ebbene sta uscendo guarda sembra una medusa Ho scelto Allora Nikita cos'è che scegli ? Operata Qua raga parte Guarda come spara la mia Non troppa no basta Basta create Si sta pensando Dai forse sta funzionando Dopo faccio la barba ragazzi Comunque punto su 3 non sta vincendo assolutamente lui tu quale hai scelto? hai scelto? ah ok ambarabacicicocotre civete sul comoco e facevano un amore con la figlia del dottore il dottore si ama l'uomo ambarabacicicocot rosso si ma per oggi secondo me sta barando dove mi vedi che baro? non sapevo neanche che ce l'avevamo uguali ah si guarda diventato un verde un po' più verde ciao ciao io guarda ti piace il mio maestolo? che bello sta diventando verde guarda dentro degli sprinkles è bellino la mia fa venire fame devo indovitare io ah dove mi chiede? questo apri gli occhi vedete i miei pensieri ok secondo me è questo brava è proprio quello dai si hai barato no perché tu non hai barato no oh mio dio oh mio dio sembra hai presente quando vai in aereo e vedi così la città? con tutte le lucine di sera non hai mai fatto questo effetto che era di sera sei in alto è bellissimo guarda Nicky tu non ti mangi no vabbè ma Duska ma quanti glitter hai messo eh forse è un po' esagerato può darsi può darsi a me piace esagerare ah troppo fico il mio però con la scuola da barbio è diventato ancora più appiccicoso allora intanto è super enorme in più ah che bello io comincio a fare un panino io sto facendo un po' di smr eh? smr si fa così guarda smr cos'è? ehm di solito oggi sale che bello oh mio dio oh mio dio devi toccarlo tu devi toccarlo vieni a provare dov'è va il mio? il tuo è proprio slime no devi far così ah no eh ti piaceva così tanto che l'hai rotta Nicky provate a toccare il mio guardate salutiamo con il mio jiggly slime bellissimo guardate è un po' siete soddisfatti di come è venuto? molto si che bello sono abbastanza soddisfatta quindi il mio è venuto proprio jiggly guarda che bello che te l'hai in mano ok io faccio un salame salutiamo salutiamo bene chita devo finire il mio salame ok ciao 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 troppo bello non lo butterò mai faccio la barba scrivete nei commenti quale è lo slime che vi è piaciuto di più aspetta dico una cosa quello di nikita cadono palline perché il suo è meno appiccicoso e il mio invece è compatissimo però sicuramente ci saranno i commenti che diranno nikita nikita perché è davvero bellissimo il suo è super brillantinato e stupendo i miei e il mio non si vedono tanti brillantini no però si vedono i pallini si si vedono i pallini il mio sembra tipo crema la menta con dentro io voglio farmi la barba voglio farmi la barba come è combinato ciao mi serve il coltellino me brucia me buba per aggessarlo però me brucia me brucia io parlare spagnolo si adesso lo slime non parlavate in tedesco prima me brucia si prima parlavi in tedesco adesso parliamo in spagnolo brucia le faccia noi siamo sì